Sulla vicenda passi invalidi potrebbero presto scorrere i titoli di coda con un rassicurante epilogo e con un pacificante tutto è bene quel che finisce bene. I giocatori in primis Capitan di Vaio ne usciranno puliti e con loro il Bologna Calcio. Non sapevano nulla, non conoscevano le regole e ignoravano che ci fosse di mezzo l'utilizzo improprio del passi invalidi. Semplicemente a suo tempo si erano affidati a Marilena Molinari, la factotum del Bologna Calcio, che qualche giorno fa è stata nuovamente interrogata in procura nell'ambito dell'inchiesta dei passi invalidi usati in modo illecito. Insomma, la versione della Molinari ruota tutta sulla fanciullesca ingenuità dei calciatori, ignari delle regole e dei limiti. I giocatori sono come dei bambini, avrebbe detto la factotum del Bologna, disabile e dunque in possesso del pass. Nessuno di noi conosceva le regole ma pensavamo fosse normale sistemare le cose dicendo che i calciatori mi scorrazzavano in auto per le vie del centro. Stesso discorso anche per Marco Divaio e per l'annullamento delle sue multe. Anche in quel caso la Molinari ha escluso ogni responsabilità da parte del capitano. Gli ho fatto firmare i moduli di annullamento in tutta fretta e senza che sopra vi fosse scritta la causale. L'ho aggiunta io in un secondo momento. Insomma, la Molinari ha confermato davanti al magistrato titolare dell'inchiesta, Walter Giovannini, di avere mentito e di avere scritto nero su bianco di essere stata accompagnata in giro per il centro da Divaio a bordo della sua Porsche. Ipotesi che comunque non sarebbe praticabile in nessun caso dal momento che la Molinari è disabile e dunque impossibilitata fisicamente a salire su un'auto di quel tipo. Oltre ai giocatori ad uscirne pulito è anche l'ex direttore generale Stefano Pedrelli e quindi il Bologna Calcio che non era a conoscenza di come la Molinari gestisse l'intera faccenda dei pass. Insomma, nessuno sapeva nulla, neppure quel Gianluca Garetti, dipendente della cooperativa Coperton, che aveva materialmente associato le targhe dei giocatori al pass della Molinari e che venne licenziato in tronco perché finito sotto inchiesta per corruzione. Non risulta che abbia chiesto soldi o ricevuto contropartite. Tutti scagionati, tranne la stessa Marilena Molinari che sembra essere stata l'unica vera regista di questa farsa.